Sì, è diplomato in tromba a Roma nell'81, in jazz a Frosinone nel 97. Ha collaborato anche lui con tantissimi grandi musicisti, da Oscar Baldambrini a Tullio De Pisco, a Tony Scott, a Steve Touré. E' veramente anche lui un grande didatta, alla tromba e al filicorno. Abbiamo Aldo Bassi. L'ospite, la guest di questo quintetto, e ho avuto modo di apprezzare la sua voce in tre grandi dischi del leggendario Miles Davis. Ha inciso con Miles, Amanda, Live Around the World, Alive in Montreux. E' veramente uno dei più grandi sassofonisti che abbiamo nel mondo. Anche lui ha ovviamente un curriculum, a parte quello di aver contribuito al lavoro di Miles Davis, è un curriculum incredibile. Lauree ovunque, dalla Berkeley all'University of Miami, ma è veramente una voce unica. è un onore avere qui in Puglia e ad Alberobello, al sovrano festival, Rick Margilza. E' un onore avere qui in Puglia e ad Alberobello, al sovrano festival, Rick Margilza. E' un onore avere qui in Puglia e al sovrano festival, Rick Margilza. E' un onore avere qui in Puglia e al sovrano festival, Rick Margilza. E' un onore avere qui in Puglia e al sovrano festival, Rick Margilza. E' un onore avere qui in Puglia e al sovrano festival, Rick Margilza. grazie a tutti 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 grazie a tutti